ragazzi parliamoci chiaro tre punti d'oro tre punti d'oro perché prima cosa siamo a 12 in classifica in quattro cazzo di partite no ti prego 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 no infatti no allora la squadra non mi è piaciuta no ma nella maniera più assoluta non mi è piaciuta ci manca un attaccante cazzo poi va bene abbiamo preso tre punti contro il verone che una squadra molto 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 ostica che stavo già per spaccare il magazzino se non vincevamo ok massimo rispetto per verona però parliamoci chiaro noi abbiamo fatto una bella partita non abbiamo fatto neanche neanche una bella prestazione allora se vogliamo essere cioè sintetici tre punti grazie a dio ma grazie a dio grazie a dio ma per il resto ragazzi come prestazione no no la fase difensiva perfetta fase difensiva perfetta però se andiamo a vedere comunque sia il c'è la partita è stata molto noiosa è stata molto uggiosa praticamente ci ha rotto il coglione praticamente a tutti dai parliamoci chiaro dai ragazzi cioè ci ha rotto i coglioni a tutti a me per primo cioè meno male che li ha come al solito si è inventato il gol perché è quello comunque sia più rappresentativo che abbiamo ma per il resto ragazzi parliamoci chiaro cioè ditemi una cosa c'è c'è stato qualcosa di carismatico che avete visto io sinceramente non l'ho visto mi spiace dirlo ma io sinceramente non l'ho visto non l'ho visto niente di carismatico che dovevo vedere ho visto semplicemente una squadra che ha segnato sul loro errore difensivo per il resto dietro perfetti è dietro ragazzi perfetto sportiello veramente sta diventando il mio idolo veramente guarda ragazzi sportiello sta diventando il mio idolo perché veramente mi dà una sicurezza mi dà una tranquillità mi dà una semplicità che veramente l'altro non mi dava ovviamente però se andiamo a vedere ditemi mi è piaciuto tanto florenzi quello si davanti quando vi dicevo ci serve una punta c'è Olli che è lì con le toppe al culo c'è lì Olli con le toppe al culo è l'unico che veramente può farci la differenza che è l'e-out che è quello che ha segnato per quanto ci possa stare sui coglioni per quanto ci possa stare ci possa fare nervosire per quanto ci possa vincere la partita ok però è stato quello che comunque sia già fatto vincere la partita meno male perché abbiamo 12 punti comunque ok adesso ci abbiamo il Cagliari però se mi parli di punti ti dico sono contento anche perché se mi dicevi abbiamo 12 punti dopo dopo anche l'Inter ti dicevo ci metto una firma ok però come prestazione questa qua non è stata la terza lenti 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 come non mai lenti come non mai vuoi la birra zio cioè adesso a parte gli scherzi ma ragazzi lenti cioè se dobbiamo essere con questi obiettivi siamo stati veramente lenti siamo stati veramente lenti 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 sì ma però che vieni l'accesso il giorno sì io proprio l'unico però ti volevi fare un'attività commerciale ti volevi fare un'attività commerciale sì sì cioè cazzo ragazzi dai all'epoca con 3 metri adesso vuoi qua cazzo dai ragazzi con 3 metri adesso parliamoci chiaro dopo non ti hai dato che ti puoi andare a fare un'attività commerciale dai è stata una partita veramente noiosa va bene che ok va benissimo servono 3 punti per l'amor di dio meno male li abbiamo presi ok però sul gioco veramente per me è un passo indietro rispetto se ne ho cazzo ma di 10 punti proprio pioli la difesa a 3 te la metti in cu però vabbè noi abbiamo preso il gol quindi comunque se non ci posso neanche dire niente ma sul piano del gioco cioè cazzo facevamo finta cioè veramente facevamo finta ad avvicinarci verso la loro porta dai cioè parliamoci chiaro un attimino dai Stefano facevamo finta di avvicinarci alla propria alla loro porta facevamo finta cioè neanche un'azione da gol loro neanche perché noi comunque sia dietro belli rocciosi belli cattivi ciao mi è piaciuto tantissimo Tomo mi è piaciuto tantissimo lo stesso Kier che era lì in mezzo a due che lui non faceva un cazzo correvano loro due lui tranquillamente tac tac vi ricordate il film di Renato Pozzetto? tac tac appoggiava punto e stop non faceva nient'altro però però per vincere comunque sia certo tipo cioè c'è ragazzi Napoli l'Inter la Juve vanno 200 all'ora non vanno come noi cioè oggi abbiamo vinto perché abbiamo hanno fatto una sbavatura e ci è andata di culo che abbiamo leao che quando comunque si è entrato ti fa male punto grazie a Dio grazie a Dio ma per il resto trovatemi trovatemi veramente c'è una cosa dove devo essere felice ce ne sono veramente poche no adesso trovatemi una cosa dove cioè ditemi una cosa dove devo essere comunque sia soddisfatto ce n'è poche oltre la fase difensiva oltre al portiere oltre tre dietro e tutto quanto dai cazzo davanti cioè inesistenti non voglio sempre essere qua a dire quello cazzo che fa il il dittatore di turno che dico cioè sapete che vi amo veramente ragazzi questi colori li amo più della mia vita però ragazzi è stata una partitaccia meno male che abbiamo portato a casa i tre punti in scascella come dicono qua ok e quello è quello che importa per il resto tutto c'è poco da salvare punto detto questo ci sentiamo domani preoccupato un pochettino sì un bacio ciao a tutti un bacio ciao a tutti che